Ma io credo che l'Abruzzo rimarrà incolto. Se questo è il modo di gestire il mondo agricolo, l'agricoltura, credo che non ci rimarrà nessuno in Abruzzo. Non è per Forza Italia, sono i dati del Ministero che vengono pubblicati. Ieri è uscita la graduatoria di ciò che è stato speso fino al 31 marzo del 2018 e dobbiamo constatare che l'Abruzzo ha fatto un enorme passo avanti. Dal quarto ultimo posto della graduatoria è addirittura arrivato al terzo ultimo posto. Credo che veramente ci sia da allarmare, ma il mondo agricolo può stare sereno perché se a fronte di questo dato fortemente negativo c'è un dato fortemente positivo. C'è l'aumento del 40% dei cani idrici portati dal Consorzio di Bonifica Centro dopo che quello sud lo aveva aumentato del 57%. Credo che veramente è un colpo mortale per il mondo agricolo, ma sui fondi comunitari credo che i dati siano fortemente negativi anche per quanto riguarda tutto il resto delle PMI industriali, commerciali, dei servizi. Siamo addirittura lì come spesa allo 0,3%. La cosa grave è che questo viene certificato dal sole 24 ore, ma dal comitato di sorveglianza che si è tenuto ormai il 22 febbraio del 2018 dove ci si negano i documenti per avere accesso e capire veramente la gravità della situazione. Così come un po' in generale mi sembra che tutti i dati danno l'Abruzzo in forte regresso. Grazie a tutti.